Ok, 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 ok Ok, dai, 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 rispondi Pronto 911? Sono Paul, Paul Corroy, dovete aiutarmi, dovete aiutarmi, non riesco a respirare Ok, signor Corroy, mi dica dove si trova Non lo so, mi hanno colpito la testa e sono svenuto, l'ultima cosa che ricordo Com'è riuscito a chiamare? Cosa? Com'è riuscito? No, per favore, aspetti Com'è riuscito a chiamare? Com'è riuscito a chiamare? Ok, ok Grazie a tutti